Bella a tutti ragazzi e ragazzi siamo ritornati in un nuovissimo video reaction Intanto raga, devo un attimo abbassare qua Ok Intanto raga De zanzare dovrebbero scoppiare tutti Tutte quelle del mo Tutte quelle del mo Devono scoppiare Così BAM Allora Siamo qua nel canale di non mi ricordo quale Comunque l'ho trovato in descrizione Mi sembra che è Fortnite Clips Non mi ricordo del nome Vabbè Comunque lo trovo in descrizione Che fa video top veramente Veramente molto belle Top di Fortnite Delle mie rigiocate Adesso noi siamo qua per vederne una Con il nuovo Sto morendo raga Con il nuovo AK47 Si muota 370 metri Cicliano Quello è il danno mi sa Penso non lo so Comunque Andiamo a vedere Dai veloci Fortnite Clips 330 Minchia Ok siamo con Nick Merckx Scusate che non so C'è la precisione Scusate ragazzi non sono a casa Sono fuori La precisione Oh siamo con T.Fu Siamo con T.Fu 40 danni e 40 Con l'M di Headshot Com'è possibile Vabbè Oh schermata del coniglio Raga non so Non è il mio video Che fa schifo Ma è la cosa di questo video Ehm Ok Aspetta quanto danno Fa 47 62 Fa meno danno Delle M4 Che sembra che L'M4 fa 63 Lo scarso 64 Si fa meno danno Però dai Ci sta Ci sta Oh aspetta che metto Questo più basso Ok Siamo con Ok con lui Beh Come ho fatto non ucciderlo Beni Wow Madonna Donna raga Ok I Con questo ragazzo Raga Siamo con questo ragazzo Ehm Costruzione di un ferro Raga No Costruite il Ma è fermo Raga Ma 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 forte oh tsmd quanti vediamo che fa vediamo che fa che c'è uno qua bam 53 107 no come l'ha preso 115 madonna ragazzi quanto te ne ha fatto se lo prenderò prima già l'avebbero ammazzato tipo di 4 anni ok i palloncini sono bellissimi sono meravigliosi sono fantastici ok ma è morto che cosa fai ok voleva fare la tattica ma è morto dai si ma è una bella clip con ninja una bella clip con ninja dai minchia se non c'è quello del pacote io secondo me al suo posto l'ho bestemmiato ok è morto è morto pure questo manca l'altro e sono morti tutti grande guarda no non sbaglio un colpo cazzo era bianco comunque poco fa 20 20 20 20 20 che cazzo sta succedendo si è fatto 46.000 kill e sono a pinnacoli vabbè è facile per tfu faresti 26.000 20.000 kill a pinnacoli per tfu ninja sono fatto dove cazzo è oh ninja eccolo qua dove cazzo ho sparato questo no allora allora con calma un attimo perché questo era era allora no non tfu non mi interessa di tfu ok ah ecco gli ha sparato la finestra ecco infatti è saltato ok gli ha sparato sotto vabbè ninja sei stupido perché non ti levi ninja ma sei cretino vabbè ninja però qua sei un po' un coglione nel senso dai c'è c'è ninja dai qua hai fatto un po' una minchiata perché potevi spostarti cioè hai visto che ti stavano spandola sotto hai fatto un po' un pensavi di farci pensavo di farci ecco cos'è stato perché si poteva spostare raga io sto morendo oh ma ce la fai cioè ma non ci vuole a sé per salire sopra un palazzo con il trampino sai non è che muore per sé è che muore per sé però ninja scappa non è che muore tu per safe dai che muore per safe dai che muore per safe muore per safe no è morto per safe vai 14 kill 14 14 kill deve scudere i miei capelli di merda ma devo tagliarli subito con la moto sega per ehi no vabbè stiamo scherzando ragazzi sono andato a prendere poca toia sono andato a prendere il motivo del cui non non prendeva più il wifi perché sono in hotspot con il telefono andiamo erano rimasti che il tifo era morto non mi ricordo per cosa ma va bene così stiamo con boy 45 che tende a dipenderemo 36 toie perfetto perfetto ragazzi wow 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 c'è una c'è da sopra gli torniamo con ninja e siamo scherzando da tre anni ok siamo noi con ninja eccolo eccolo 7 di vita 7 di vita oh mio dio morto ok ma penso che sono gli ultimi questi se sono gli ultimi raga veramente me ne vado se vincono con 7 di vita raga qualcosa di pazzesco assurdo bam mamma oh no oh 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 non ci credo stava per morire stava per morire stava per morire capo quante chi ti ha fatto non l'ho visto ma va bene questo 26 questo 26 rimasti e 1 kill 2 kill 2 kill 2 kill no 3 kill adesso mi sa oh eccolo qua madonna l'ha fottuta ok eccolo oh mamma madonna raga madonna il tempo è scarico aspetta che mi da carica ok raga siamo ritornati ok siamo ritornati con ninja guardate quanto dura non ho capito che è successo allora praticamente vuole con i palloncini salta ah gli sparano ok ok self drop mi ha sparato ok poi raga al prossimo video reaction alla prima partita di ciccio gamer o di ninja o dipende da qui ok poi scrivetemi sotto nei commenti di chi volete chi sia fatta la reaction ogni cittadino questo cazzo mazzo pazzo ma non ho capito come come ma non ho capito come ma ma è successo perché non ho capito come ma è successo questo è bravissimo a renderizzare uh uh grande uh c'è questa cosa qua del nome dove non si non si vede che cazzo di vita hanno guarda si vede solo lo scudo non si vede un cazzo bravo bravo ti fu guarda ti fu ma ti fu giustamente quella è una stiera cazzo cazzo oh 100 ah il piede ok morto morto tutte e due ma come cosa ha fatto non ho visto vabbè che ti raggiungere non ci riesce ci va di sopra e lo spara mi sta laggando di fu ma stava laggando di fu o stava laggando il video non ho capito mi sa che laggava di fu è uscito prima voleva fare la cosa del muro però è uscito prima ninja perché che gioco non non ho visto è che basta può finire qua noi ci vediamo al prossimo video video non so se sarà gameplay se sarà video se sarà forse sarà di spiderman non lo so aspettatevi un prossimo video di spiderman ma raga io direi che quanti cazzo di motori passano da qua io direi che per questo video può essere tutto noi ci vediamo al prossimo video